Nicolae Caruso Revisore Buongiorno a tutti. Devo dire che sono veramente molto emozionato di essere qui oggi per due motivi. uno perché parlare davanti a tante persone che si conoscono perché io conosco molte delle persone che sono sedute qui in sala fa venire un po' la sindrome da poesia di Natale davanti agli zii o il saggio di violino, io si imparavo il violino quando ero piccolo davanti ai familiari è la cosa peggiore meglio parlare a persone sconosciute secondo, parlare di San Patrignano a San Patrignano mi mette un po' di strizza però vivo questo momento come un momento di restituzione alla comunità io frequento la comunità da febbraio dell'anno scorso cioè quando la comunità di San Patrignano ha invitato l'Università Bocconi a collaborare in una sfida che è la sfida del progetto microcredito di cui accenderò alla fine e da allora per me, che ho avuto la fortuna di coordinare questo progetto per parte Bocconi, è iniziato un percorso personale importante ho tanti nuovi amici con le quali condivido tante passioni musicali e non solo però oggi non parlerò di quello che la comunità ha dato a me come persona, questo me lo porto dentro nel mio cuore, nei miei pensieri cercherò di offrirvi una riflessione su quello che l'esperienza della comunità di San Patrignano insegna e può insegnare agli studi di imprenditorialità sociale le cose che vi dirò sono all'interno parte di un paper che è stato presentato la settimana scorsa all'European Academy of Management a Valencia e che verrà presentato all'Academy of Management a Filadelfia e metterò a disposizione della comunità oltretutto questo paper a Valencia è stato anche premiato come best paper del Special Interest Group in Public Management quindi siamo andati bene anche dal punto di vista scientifico e poi è frutto del mio essere qui l'anno scorso quasi tutti i weekend delle interviste che ho fatto a Franza, a Piero, ad Antonio Tinelli ad Antonio Boschini quindi ho cercato di sistematizzare un po' tutti gli spunti all'interno di un framework teorico che è il framework che io di solito utilizzo che noi di solito utilizziamo per presentare il tema dell'imprenditorialità sociale agli studenti in università che cos'è l'imprenditorialità sociale? in letteratura ci sono più di 40 definizioni di imprenditorialità sociale non c'è una condivisione su quello che appunto questo nuovo fenomeno è dal nostro punto di vista utilizzando un'accezione molto ampia del concetto imprenditorialità sociale e possiamo, come dire, etichettare come imprenditorialità sociale qualsiasi iniziativa di un singolo o di un collettivo che presenta tre elementi è innovativa cioè propone una soluzione nuova un servizio nuovo, un prodotto nuovo, un modo di concepire un'attività alla finalità di generare cambiamento sociale quindi non di curare un problema ma di risolverlo alla radice e ha il terzo elemento fondamentale che è quello della sostenibilità economica cioè un modello che nel lungo periodo è sostenibile dal punto di vista economico-finanziario per spiegare l'imprenditorialità sociale è meglio utilizzare degli esempi se pensate un po' a un'esperienza pionieristica di imprenditorialità sociale che è quella della microfinanza pensate alla microfinanza come una grandissima innovazione nel, come dire, in un qualcosa che è molto comune che sono i servizi di credito però concepire una nuova forma di servizi finanziari per promuovere l'inclusione sociale quindi favorire un cambiamento sociale e tutto questo farlo in modo sostenibile, replicabile, scalabile tanto è che oggi la microfinanza è una realtà importante di cui anche San Patrignano evidentemente sta cercando di fare tesoro quindi l'imprenditorialità sociale è un'accezione ampia quindi non solo competenze manageriali nel non-profit ma un'esperienza che tende a produrre nuove forme organizzative un'esperienza intersectoriale i driver dell'imprenditorialità sociale sono sostanzialmente due, evidente la crisi del welfare state progressiva decremento di risorse pubbliche a disposizione delle problematiche sociali modello, se ne parla da due giorni qui socio-economico di sviluppo non sostenibile che accelera processi di esclusione sociale sta facendo crescere le problematiche sociali e ambientali da qui la necessità di evidentemente trovare soluzioni innovative per sradicare problemi complessi che ci portiamo da decine e decine di anni avanti studiare l'imprenditorialità sociale sono tre gli elementi che caratterizzano questo fenomeno e sono tre gli elementi rispetto alle quali la riflessione accademica si è espressa negli ultimi vent'anni parto dal primo che sostanzialmente è un'elencazione prettamente cronologica perché i primi studi di social entrepreneurship hanno indagato la figura del social entrepreneur cioè sono andati sostanzialmente a studiare quali sono gli elementi caratterizzanti di un imprenditore che si occupa di sociale quali sono gli elementi che lo differenziano da un imprenditore nel business tradizionale quindi quali sono le caratteristiche che questa persona deve avere e quali sono le motivazioni alla base della sua azione secondo ambito di ricerca social enterprise come una nuova forma organizzativa e in questo ambito diciamo che troviamo due filoni di studio il primo tipicamente di management che tende appunto a cogliere quali sono le specificità di un'organizzazione che persegue contemporaneamente obiettivi di tipo sociale e sostenibilità economico-finanziare noi tradizionalmente siamo pensati ad abituare scusate, siamo portati a pensare a soggetti che operano nel sociale come soggetti che offrono dei servizi gratuiti e si finanziano attraverso donazioni o fondi pubblici il tema della sostenibilità economica-finanziare delle organizzazioni, delle social enterprise evidentemente è un tema molto 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 più complesso quindi l'impatto che in un'organizzazione può avere la compresenza di obiettivi sociali e di obiettivi economici è molto forte ed è un impatto molto forte in termini di governance, di procedure, di coordinamento tutte cose che a San Patrignano conosciamo molto bene il secondo filone di studi è quello che appunto chiamiamo legal approach perché evidentemente diciamo se la social enterprise rappresenta un ponte tra l'organizzazione business tradizionale e l'organizzazione non profit tradizionale nel mezzo si possono avere delle forme variegate organizzative dei modelli gestionali molto articolati che fanno impezzire i nostri amici legali perché evidentemente non esiste ad oggi una figura giuridica che perfettamente è fitting con modelli gestionali che vedremo chiamiamo ibridi e oggi anche in Italia si è riacceso il dibattito appunto su forme legali nuove di impresa sociale in grado appunto di creare effettivamente questo ponte tra non profit e business tradizionale terzo stream di ricerca social entrepreneurship come processo quindi un processo imprenditoriale che avviene in ambito sociale è una novità di solito appunto siamo abituati a vedere processi imprenditoriali in business e in industria tradizionali attivare studiare processi imprenditoriali in ambito sociale è una cosa nuova partiamo dal primo quindi analizzeremo San Patrignano cercheremo di capire San Patrignano rispetto a queste tre prospettive come che cosa può dirci rispetto alla figura del social entrepreneur la letteratura internazionale ci dice che il social entrepreneur è una persona con una visione è una persona che riesce a intravedere una modalità per soddisfare un bisogno e sradicare il problema cioè vede la soluzione dove altri non la vedono ed è un attore di cambiamento molto interessante la slide che vi propongo adesso perché settimana scorsa a Valencia mi sono imbattuto in una collega che aveva fatto un paper su una collega indiana che aveva fatto un paper sulla leadership sostenibile la leadership per la sostenibilità aveva studiato Gandhi e Tata e aveva come dire elaborato un framework della leadership per la sostenibilità che va a combinare sostanzialmente elementi tipici delle leadership spirituali con elementi tipici delle leadership imprenditoriali e sono venute fuori un po' aspetti interessanti c'è il tema della vision evidentemente c'è il tema dell'integrità il walking the talk un grande leader una persona che esprime nei comportamenti quindi una fantastica coerenza tra quello che dice e quello che fa work as a calling or altruistic goal il lavoro come una vocazione verso gli altri umiltà mettersi in orizzontale con le persone avere un rapporto paritetico al di là di quelle che sono poi leggere anche organizzative essere coscienzioso essere portatore di valori infondere fiducia preoccupazione verso gli altri capacità di motivare i propri collaboratori e di coinvolgere nei processi decisionali e io quando ho visto questo peper ho detto è Vincenzo Muccioli quello che mi è stato raccontato quello che mi è stato raccontato dalle amici della comunità di San Patriniano è l'esempio del leader sostenibile del leader che è in grado di costruire una organizzazione che è in grado di durare nel tempo di generare impatto queste riflessioni su Vincenzo Muccioli sono frutto appunto delle interviste che ho fatto lo scorso anno e Vincenzo Muccioli era una persona visionaria vulcanica positiva la sua energia si sente ancora nella comunità è una persona che aveva carisma aveva capacità di guardare negli occhi delle persone e connettersi empaticamente con loro aveva la capacità di valorizzare le attitudini e le competenze delle persone di allocare delle responsabilità di dare progressivamente autonomia a queste persone personificava la missione perfetta coerenza tra valori e comportamenti e cosa molto importante questa sua capacità di visione l'ha portato a concepire la comunità come appunto un qualcosa che poi nel tempo sarebbe rimasta le persone che venivano di volta in volta ispitate le persone che lavoravano nella comunità e devo dire che la visione di Muccioli a quasi vent'anni dalla sua scomparsa è realtà perché oggi la comunità è gestita dai membri della stessa e dagli ospiti la sfida oggi che la comunità sta affrontando e questo ha molto da insegnare alle organizzazioni non profit è il passaggio da una leadership carismatica e questa foto quando la faccio vedere in convegni e agli studenti è bellissima perché è proprio una rappresentazione grafica visuale della leadership carismatica la sfida è passare dalla leadership carismatica a una leadership condivisa ed è questa la sfida di tutte le organizzazioni non profit le organizzazioni non profit quelle mission driven quelle in cui il leader fondatore da un imprinting fortissimo alla realtà organizzativa evidentemente hanno problemi nel lungo periodo di sostenibilità perché diciamo hanno delle difficoltà spesso a superare le leadership carismatiche e questo è un elemento molto importante che fa di San Patrimoniano come dire un laboratorio di studio interessante social enterprise as an organization abbiamo detto che la social enterprise come organizzazione è un ponte tra profit e non profit le esperienze di imprenditorialità sociale quindi propongono dei modelli gestionali veramente totalmente innovativi che sono frutto della combinazione tra elementi non profit e elementi profit quindi una organizzazione filantropica tipicamente ha un orientamento alla missione ha l'obiettivo quello di creare valore sociale i beneficiari non pagano si finanzia con donazioni e public funds e evidentemente la sua forza lavoro è prevalentemente di natura volontaria un'organizzazione business e market demand ha l'obiettivo di creare valore economico cede i suoi servizi a prezzi di mercato si finanzia il capitale market capital e evidentemente i suoi lavoratori sono persone stipendiate oggi si parla di organizzazione ibrida appunto come un'organizzazione che prende elementi tipici del profit e tipici del non profit ok? la letteratura negli ultimi anni vedete anche le date delle mie citazioni sono molto recenti gli studi sulle abit d'organization appunto si focalizza si sta focalizzando su quali sono le dinamiche che si creano all'interno delle abit d'organization tra chi è il depositario dell'anima sociale e chi è il depositario dell'anima economica ne vengono fuori degli studi di organizzazione molto interessanti ma l'altro fenomeno interessante che si sta sviluppando nelle pratiche è il tema delle strutture organizzative ibride che significa? qual è la differenza? le organizzazioni ibride sono organizzazioni che tendono a tenere all'interno di uno stesso veicolo giuridico l'anima sociale e l'anima economica le strutture organizzative ibride invece sono un insieme di diverse organizzazioni tipicamente profit e tipicamente non profit che lavorano per la stessa missione ma che evidentemente sfruttano le opportunità che le diverse figure giuridiche offrono allora è evidente per esemplificare che una limited liability companies o una SRL è un'organizzazione che si presta maggiormente un'attività commerciale più di un'associazione però l'associazione evidentemente si presta a ricevere donazioni a ricevere public funds a fare attività free of charge quindi se non è possibile oggi avere in una stessa organizzazione sotto una stessa struttura giuridica le possibilità e le opportunità di un'organizzazione tipicamente non profit di un'organizzazione tipicamente business che facciamo una holding creiamo una serie di vicoli giuridici che ci danno la possibilità di massimizzare al meglio la missione sociale e la realizzazione di obiettivi di tipo economici che ci servono per la sostenibilità quindi abbiamo for profit con non profit sussidiare abbiamo non profit con for profit sussidiare due esempi internazionali di riferimento sono il primo forse caso di spin off sociale è quello della New Manson New Manson che nasceva come una corporation che dava il 100% degli utili a charities al 100% degli utili di un'attività commerciale di salse, salsine, pizze che aveva come brand appunto la faccia di Paul Newman a un certo punto diciamo questa attività era diventata così grande che era veramente difficile gestire l'attività commerciale e l'attività di allocazione alle charities quindi l'attività sociale in un'unica organizzazione quindi c'è stata una sorta di spin off e quindi la New Manson è diventata di fatto una sorta di holding in cui c'è una corporation, una profit è una fondazione a cui la corporation dà il 100% degli utili e che si occupa di sviluppare tutta la parte sociale un'altra esperienza interessante è quella di Big Issue Big Issue addirittura ha costituito uno, due, tre, quattro, cinque organizzazioni che supportano l'attività Big Issue è una limited liability company che commercializza magazine attraverso l'utilizzo di senza tetto quindi attività per includere i senza tetto dargli un reddito e farli cambiare vita ecco questa attività viene supportata da una fondazione che fa programmi a sostegno e a supporto dei senza tetto al di là del supporto economico che viene dato dal lavoro c'è la TBI Jobs che è una società di collocamento che funziona sia per i senza tetto ma anche per i non senza tetto e quindi serve per aiutare i senza tetto a trovare un lavoro dopo il passaggio tra Big Issue e c'è per esempio The Big Issue Invest che è una società di social finance che finanzia progetti sociali e finanzia progetti imprenditoriali di senza tetto vediamo San Patrignano San Patrignano è una tipica hybrid organization perché noi qui noi, mi permetto di dire noi perché mi sento come dire pienamente coinvolto con la vostra missione pur essendo esterno però nella comunità di San Patrignano si persegue una missione sociale si crea valore economico i beneficiari non pagano nulla free of charge riceviamo donazioni ma nello stesso tempo con i social bonds abbiamo iniziato ad avere accesso ai capitali al capital market abbiamo volontari e abbiamo stipendiati quindi abbiamo praticamente tutti gli elementi tutti gli elementi di una tipica non profit tutti gli elementi di una business di una organizzazione business dal punto di vista della struttura organizzativa siamo anche un hybrid organizational structure perché abbiamo due associazioni abbiamo una cooperativa agricola abbiamo una cooperativa sociale mista che gestisce la comunità abbiamo una fondazione quindi abbiamo tutta una serie di organizzazioni che cercano al meglio di dare il loro contributo alla missione sociale di San Patrignano dal punto di vista invece della gestione evidentemente della dinamica tra chi è depositario del nuovo sociale e chi è depositario del nuovo economico la nuova governance di San Patrignano evidentemente prevede un comitato manageriale un comitato sociale che si bilanciano tra di loro si controllano anche tra di loro condividono le decisioni e questo è fondamentale in un hybrid organization perché nella letteratura dell'hybrid uno dei rischi è quello che viene chiamato mission drift cioè lo sviare la missione e se si tira la corda sul sociale abbiamo problemi di sostenibilità economica se si tira la corda sull'economico abbiamo problemi nel perseguimento della missione sociale tenere la tension between these goals come dicono gli inglesi è l'elemento di criticità nella gestione di queste organizzazioni ultimo passaggio social entrepreneurship come un processo imprenditoriale gli elementi che caratterizzano questo processo imprenditoriale abbiamo detto sono l'innovazione la sostenibilità e la generazione e il cambiamento sociale il generare impatto da questo punto di vista San Patrignano è un'esperienza straordinaria perché da 40 anni propone un modello innovativo nel problema della rehabilitazione nel recupero della tossicodipendenza un indice di impatto straordinariamente grande 72% tasso di recupero rispetto al 18% che è la media mondiale è un'organizzazione che si sta ponendo anche il problema della replicabilità e della scalabilità di questo modello ci sono molti operatori negli altri stati so che chiedono informazioni su come replicare il modello di San Patrignano e c'è una continua tensione verso l'innovazione tensione verso l'innovazione e tensione verso l'impatto è un'organizzazione non output oriented ma outcome oriented e il progetto di microcredit è una testimonianza cioè preoccuparsi del dopo preoccuparsi dell'inserimento preoccuparsi del problema sociale nel suo complesso e non concepire evidentemente il beneficiario come un numero come semplicemente un output una persona che viene qui a soffrire per quattro anni di un servizio ma concepire il recupero come un come dire un vero un vero un vero cambiamento sociale non solo nella persona ma nella comunità nel contesto grazie per l'ascolto grazie 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 grazie